Buongiorno a tutti, sono Laura Mastrorillo, Presidente Federasma e Allergie. Sosteniamo il progetto legato allo sportello di ascolto Liberi di Respirare, per dare a tutti la possibilità di accedere al servizio messo a disposizione dai SIMP, Società Italiana di Medicina Psicosomatica, un'equipe di medici, psicoterapeuti, qualificati, forniranno gratuitamente ascolto e la possibilità di organizzare dai due ai quattro incontri individuali online, per permettere con chiarezza di imparare a gestire stress, ansia e preoccupazioni legate a tutte le difficoltà vissute in questo difficile periodo. Il servizio è accessibile a tutti i cittadini e a tutti gli operatori sanitari, è già nato nella prima fase della pandemia per l'addestramento dei medici nella regione cinese di Wuhan. SIMP l'ha adattato alla realtà italiana e l'ha reso fruibile per tutti quei cittadini e quegli operatori sanitari che sono in prima linea nell'affrontare le conseguenze di questa emergenza. Chi soffre di una malattia respiratoria, soprattutto in fase grave, conosce bene che cosa sia la fame di aria, ma in questo periodo forse i timori per la propria salute sono diventati ancora più forti per la paura di esporsi ad un contagio, di non riuscire a riconoscere il significato dei propri sintomi nella preoccupazione costante proprio di una potenziale infezione. Per loro e per tutti i cittadini, per i medici e per gli operatori sanitari, aiutaci ad aiutare. Grazie Grazie Grazie